E allora scopriamoli questi candidati, questa squadra fantastica, dei dieci candidati, Zanetti, Raul, Giggs e Buffon, Eto'o, David Beckham, Xavi, Casillas, Pujol e Drogba. Francesca hai visto che campioni, uno di questi sarà il tuo erede, ci sono dieci candidati, ecco tu chi voteresti? Sceglierne uno è difficile perché sono tutti grandi campioni, però tra questi scelgo Buffon perché è italiano, è mio amico e poi è veramente il portiere più forte del mondo. C'è un giocatore fra questi in cui ti ritrovi di più, quello che si avvicina più al tuo gioco? Tra questi penso i tre attaccanti, Raul, Eto'o e Drogba, sono quelli che cerco di imitare, siamo quasi simili diciamo. Invece è quello che secondo te è più popolare tra tutti questi campioni, l'Opera rappresenta una nazione certamente, ma quello che secondo te può essere più votato attraverso internet che è il modo insomma con cui si vince questo? Più popolare è elevato Beckham, penso un po' tutti perché sono grandissimi i giocatori che hanno fatto la storia mondiale, perciò citarne uno in particolare è difficile, perciò chiunque dovesse vincere penso che sarà un premio veramente meritato.